Il principe Carlo ha iniziato il nuovo anno lodando inaspettatamente suo figlio, il principe Harry, in un saggio su Newsweek. Il principe Harry dovrebbe considerare di cancellare le sue memorie dopo il ramo d'ulivo di suo padre? Vota nel nostro sondaggio, il principe Carlo ha elogiato il lavoro di Harry nella lotta al cambiamento climatico. Ha scritto. Come padre, sono orgoglioso che i miei figli abbiano riconosciuto questa minaccia. Più di recente, mio figlio maggiore, William, ha lanciato il prestigioso premio Earthshot per incentivare il cambiamento e aiutare a riparare il nostro pianeta nei prossimi dieci anni, e mio figlio minore, Harry, ha evidenziato con passione l'impatto del cambiamento climatico, soprattutto in relazione all'Africa, e ha impegnato la sua carità per essere net zero. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha detto che il saggio potrebbe fare molto per riparare il danno nella relazione tra Charles e Harry. Ha detto Altesan, penso che questo tributo sia molto significativo perché questa è una cosa che condivide Charles, William e Harry comune e questa è la necessità di combattere il cambiamento climatico. Naturalmente, i rapporti di Harry con suo padre sono stati estremamente tesi. Il fatto che Charles lo abbia fatto in Newsweek, che ha una grande diffusione in America, penso che sia chiaramente una forma di ramoscello d'ulivo nella speranza che ci sia una forma di riconciliazione. Fitzwilliams ha aggiunto che non sarebbe sorpreso se il principe Harry ritardasse il suo prossimo libro di memorie, dicendo, penso che se offri un ramoscello d'ulivo, è ragionevole aspettarsi qualcosa in cambio, ha aggiunto. Avrei pensato che sarebbe stata presa in considerazione una qualche forma di rinvio dell'autobiografia. Altrimenti, tutto ciò che viene detto a Meghan e Harry quando vengono per le celebrazioni del Giubileo di Platino cosa che sono sicuro che lo faranno potrebbe plausibilmente trovare la sua strada nel libro. La famiglia reale ha bisogno di sapere che la pressione viene presa fuori di loro quando si tratta di questa autobiografia. Questo è un modo per gestirlo.